Se mi lasciassi spiegare, tu forse stasera riuscissi a cavi Basta guardarmi negli occhi, bagnati d'amore, d'amore per te Un attimo non te ne porti, ormai l'hai deciso, va bene così Non dico niente, tanto non siente Che d'agio fatti male, non m'ho trattato così Non d'agio mai tradita, tu sei tutta vita mia A estrella m'estima, fama senti o valore Cabo iscara famo d'ora, finana a semana va Che d'agio bati male, aiuta ma capi Non fa ma sai minuti, so importato doma te Non credo le parole, e chi ci ha fatto male Sono tanto po' piacere di venere, non d'aname Se mi lasciassi in due ore, le parole più belle Sono scritto per te T'hai castivata, una chiave, una casa, tua vita T'hai spartato con me Se ancora ai mito ne porti Ora vedo che la volta, ti voglio bene Torniamo insieme Che d'agio fatti male Non m'ho trattato così Non d'agio mai tradita Tu sei tutta vita mia A estrella m'estima, fama senti o calore Cabo iscara famo d'ora, finana a semana va Che d'agio bati male, aiuta ma capi Non fa ma sai minuti, so importato doma te Che d'agio ne porti e che ci ha fatto male su un tante buon viaggio e ridurre non da l'abbè non c'è te rai da maghi da te preg to' ancora non merit una parola se andò a fornì voglio s'abbè che che d'altro fa te male aiutava a capire non fa ma sei minuti sto prendendo vita mia non c'è te rai da e che ci ha fatto male si può far leggere st'amore come me fa che sta vita non è niente senza te ... non c'è te... Quando siamo andati a piedi ho detto che dobbiamo andare a fare, i venditori a volare. E' nulla da togliere i venditori a volare. Ci dobbiamo ingerciare sempre il cusino. E il cusino, guarda qua. Il cusino è in pace. Se mi leggessi in tuo cuore le parole più belle sono scritte per te. Ti ha stivata una chiave, una cazza, la tua vita ti ha spartato con me. Allora siamo anche i genitori di Cristina. Nel genitorio di Cristina. Alla statrice è Cristina Vitale, il sio Pasquale, il papà. La mamma non la vede, se ne ha ancora la mamma. Non mi dà 4 ore, eh? Ci vediamo che non si vede il figlio. Vabbè, il cappuccino l'ha reso. Adesso è a posto. Guardate, ho la parazione del nostro maschio esposito. Eccolo qua. Pensate, questo è il quadro. Questo qua anche se non ci vede, se non lo so, lo deve immaginare. Insomma, è lo schicco d'alza. Guardate un po' la pancia. Oh, oh, oh. Posso dire? Una settimana fa, che daccia fatte male, aiuto ma a cambi.